è quasi mezzogiorno è quasi mezzogiorno facciamoci una pasta facciamo una de cecco il massimo per me rigorosamente essiccata lentamente passa la temperatura come tiene la cottura e conserva il sapore il profumo ed il colore è pronta è qua arriva jean ma che eleganza col papillo beh con una pasta così lì de cecco ce n'è una sola